Ciao amici di Taliato Games, mentre parte l'intro del nuovo video di UFL ringraziamo ancora una volta Francesco, leggendo 88, oggi più utile dell'ossigeno, mi ha fatto due segnalazioni importantissime che io ancora non avevo visto, giornata pesantissima per me di lavoro, ma vabbè a voi non ve ne frega niente giustamente, nuovo video di UFL sul matchmaking, sull'online e tutto quanto. Sono curiosissimo, lo vedo con voi assieme e cerchiamo di commentarlo mentre lo vediamo, mentre vediamo quello che ha da dirci Strikers in merito a tutto quello che riguarda, appunto avete visto UFL server e tutto quanto, abbiamo, eccolo qui. Ciao a tutti, un altro passo nella UFL journey, oggi questo è molto importante, oggi parleremo del backhand e qui ci sono due persone fondamentali nel suo sviluppo, Oleg e Dmitri, ci danno qualcosa su ciò che fa il loro team per avere un sistema di matchmaking corretto, tema importantissimo. Come lavorano per avere una stabile qualità di connessione per tutti i giocatori? Altro tema importantissimo, parleremo anche della protezione dei dati e cosa fa effettivamente il backhand. Essere onesti, sapevo veramente poco di tutto questo prima dell'intervista, fateci sapere cosa ne pensate di tutto quello di cui parleremo e dirci cosa vedere in questo percorso. Insomma, ciò che vorreste venisse trattato di più nei dettagli, ma questo è importantissimo. Va bene, diteci cosa vi piace in questo aggiornamento, siamo pronti ad ascoltarvi, bene, bene. In ogni caso, si parte, e qui vediamo i studios di Strikers, Oleg, Dimitri, non so chi è Oleg, non so chi è Dimitri, ehi Dima, ehi, abbiamo oggi si cacchiare il meno o meno convenzionale, abbiamo deciso di mescolare un po' le cose, va bene Dimitri. Ehi Oleg, ehi Tigran, è un piacere conoscerti anche se da remoto. Partiamo subito con le cose serie, aiutami a capire che cos'è il backhand, in modo da dare un'infarinatura a me e a molti di coloro che ci guardano. Il backhand è quella parte del gioco che si offre a gestire tutte le richieste agli utenti a livello di metagioco, in altre parole la struttura invisibile del gioco, bene. La nostra compagnia è il backhand, è un set di servizi online che permette ai giocatori di interagire tra di loro. Include il matchmaking, trovare avversari e anche alcune operazioni di metagioco. Molte cose riguardano la creazione del club, come cambiare e acquistare calciatori, club, customization, kits, eccessiogramma, gli utenti, ne trovano altri per giocare a un incontro online. Archiviazione dei dati, conservazione dei dati, autorizzazione. Nella modalità online il team del backhand è responsabile della gestione del carico dei server. I giochi online hanno un enorme numero di giocatori, quindi c'è la necessità di archiviare e processare una grandissima quantità di dati per tutti loro. Dobbiamo essere in grado di processarli alla perfezione. Quindi per riassumere, il backhand è una serie di servizi online che permette agli utenti di tutto il mondo di interagire tra di loro. Ok, bene, queste ci hanno dato le spiegazioni. Permette anche la manovillazione di proprietà dell'ingame e c'è sicuro che i server possano sopportare il più pesante dei carichi. Ok, ok, ok. Fino a qui informazioni, ma vogliamo capire quello che faranno un po' nella gestione di tutto questo. Dimmi una domanda per te che ho dimenticato di fare all'inizio. Quali sono le differenze tra il tuo lavoro e le responsabilità di quelle di OEG? Vabbè, questo ci interessa relativamente. Come interagite voi due e come vi dividete i compiti? Penso potrebbe aiutare tutti noi a coprire meglio la struttura del vostro team e le vostre risposte. Ok, sì, io sono il cliente coinvolto nella pianificazione del processo di lavoro nella gestione del team. Sono responsabile della pianificazione dei compiti, dell'assegnazione di proprietà le funzioni, della sincronizzazione dei processi paralleli. Ed è mia responsabilità coordinare la nostra squadra con i producer e i game designer degli altri dipartimenti. In pratica sono il project manager del back-end. Ciò significa che sono il contatto tra il nostro team, gli altri team e processi esterni. Mi devo assicurare che il team del back-end completi tutti i compiti assegnati con un buon livello di qualità all'interno del team stabilito in maniera coordinata con gli altri team. OEG invece è l'esperto tecnico, è l'architetto del gioco, ciò significa che si occupa di supervisionare e controllare lo sviluppo di tutte le tecnologie, gli strumenti interni e le meccaniche che vengono create nel nostro dipartimento. Io e OEG lavoriamo insieme per sviluppare e coordinare soluzioni diverse, implementare e distribuire tra i vari team. Dall'altro lato possiamo anche decidere quanto è tempo di chiedere aiuto da parte degli altri team. Ed io mi occupo di chiedere quello che ci serve. Ok, lavoriamo a stretto contatto, ci completiamo per così dire. D'accordo ragazzi, bene, sì sì è così. Ok, passiamo al metagioco, sono 5 minuti e vediamo un po' di capire quello che farà questo gioco. Il metagioco racchiude tutta la logica dietro a cose come la scelta dei club, completi e acquisti in game. Ok, e molte altre cose i cui giocatori apprezzeranno l'utilizzo nel gioco. Bene, come la personalizzazione del club, le impostazioni dello stato, i modifichi della squadra, scegliere i completi, scegliere i paggiamenti specifici. Questo è il metagioco. In pratica tutto ciò con cui l'utente può interagire, eccetto giocare effettivamente un incontro, è metagioco. Va bene, e per spiegare come questa appare la nostra prospettiva, come gli sviluppatori del back-end, va più o meno così. Abbiamo dei client, abbiamo il nostro back-end che esiste a qualche altra parte, chiamiamo questo posto il cloud. All'interno del cloud ci sono diversi servizi che processano le richieste fatte da ogni client. Così vedete anche come funziona il football. Quando un client ci manda le richieste noi le processiamo, le mettiamo nel database, e ciò significa che prima dell'incontro successivo l'utente potrà utilizzare una delle qualsiasi formazioni salvate in precedenza e in più non si perderanno i giocatori acquistati o altre proprietà. Lo schema sembra semplice, client e richieste. Ma ci sono altre implicazioni. Ci sarà un gran numero di giocatori che creeranno un significativo carico sui server del gioco. Per sviluppare questo sistema abbiamo preso in considerazione la modularità, l'utilizzo delle risorse e così via. Siccome parliamo di un gioco online, ne approfitto per farvi le domande riguardo il sistema di matchmaking di UFL. Ecco, bravo, come funziona? Ci sono funzioni uniche che dobbiamo aspettarci, potete dirci qualcosa al riguardo? Sai, il sistema di matchmaking in un gioco online, specialmente in un simulatore calcistico come UFL, è una delle meccaniche più importanti. D'accordo. Svolge un ruolo assolutamente fondamentale, vero? Onestamente, termine un poter dire molto sul funzionamento del sistema di matchmaking. Ma come suggerisce il termine, il matchmaking è un set di algoritmi che permette incontri di avversari basandosi su personali parametri di ogni singolo giocatore. Questi parametri possono essere cose positive, come le statistiche di un giocatore paragonate agli altri, e il loro punteggio negli incontri online. Ma allo stesso tempo ci sono anche numerosi parametri negativi che lo influenzeranno. Come penalità per abbandono degli incontri, infortuni all'interno della squadra, basandoci su questo parametro viene calcolato il peso di un giocatore e quello diventa una base. Tutto questo definirà ciò che chiamiamo peso di un giocatore e lo useremo per il processo di matchmaking. Ci occuperemo di trovare il miglior avversario possibile. Un altro aspetto importante del sistema di matchmaking è la geografia, intendendo letteralmente la localizzazione del giocatore e dell'avversario. Sì, è corretto. Certo, possiamo far incontrare e vedere come giocano e definire le loro localizzazioni, ma ci sono i fattori che influenzano la loro esperienza. Parlo del tipo di connessione. E già, il primo tipo di connessione è quella peer-to-peer. In altre parole, quando due clienti in luoghi diversi si connettono tra loro attraverso internet e comunicano, uno di loro agisce come server e l'altro come client. Sì. Tutto via potrebbe essere che ci sono vari problemi alla qualità e al tipo di connessione che si sta utilizzando. Sì. E comprensibilmente questi problemi possono dare un vantaggio ad uno dei giocatori. Sì. Prima di tutto consideriamo la connessione dal lato del server. Se si ha una connessione più veloce, si farà un'interfaccia più rapida nella risposta. E di conseguenza la loro esperienza sarà notevolmente migliore. Per risolvere questo problema abbiamo deciso di utilizzare dei server dedicati. Ciò significa che per iniziare un incontro due giocatori si connetteranno come al solito, ma non li faremo connettere direttamente tra di loro. Faremo invece connettere i due avversari su un server remoto e separato che abbiamo dal nostro lato del back-end. Tornando indietro all'idea del cloud, questo è il nostro server dedicato che fluttua nel mezzo. Eh, facci vedere un po'. È come un hub che si applica la logica. I nostri utenti si connettono a questo server dedicato e poi interagiscono indirettamente tra di loro. Questo è un sistema molto più comodo. Server dedicati UFL. Bene, per cominciare i giocatori avranno un'esperienza significativamente migliore, meno dipendente dalla tecnologia dal lato dell'utente. Inoltre i nostri server potranno offrire una migliore qualità di connessioni e migliori prestazioni e aiuteranno a neutralizzare qualunque svantaggio, mantenendo il gioco corretto. Durante la chiacchieretta con te o led, spesso sentire parlare di raccolta dati. Avete detto che gli utenti vi forniranno dei dati. Potete spiegarci meglio, chiarire di che genere di dati avete bisogno, perché sono necessarie e quante informazioni personali otterrete e archiverete. Tutti gli dati che raccoglieremo, tutte le statistiche, sono uno degli strumenti principali che ci permettono di impredire il comportamento di un giocatore. Cosa più importante, utilizzando dati reali, possiamo ottenere una chiara visione di quali meccaniche e quali elementi funzionino correttamente e quali no. Per esempio, raccogliamo dati riguardanti il modo in cui gli utenti interagiscono con gli aspetti del metagioco, a partire da prima degli incontri, come le loro informazioni, impostazioni e informazioni utilizzate e così via. Poi otteniamo dati riguardo gli incontri del giocatore dopo il loro inizio, come giocano gli utenti, il comportamento della palla, incluso ad esempio il numero di tocchi, le traiettorie del giocatore, eccetera. Prima di tutto questo ci permette di ottenere un buon numero di dati riguardo il bilanciamento del gioco. In questo modo possiamo determinare quali meccaniche funzionano bene e quali non vanno come vorremmo. Di conseguenza possiamo lavorarle per migliorarle in futuro. Non si tratta di avere un controllo totale, ma più di miglioramenti. Questo è uno dei modi in cui possiamo sapere che il gioco effettivamente funziona correttamente. Le statistiche ci servono anche a ottenere dati tecnici. Realisticamente non tutto potrà sempre funzionare alla perfezione nel gioco. Ci saranno bug differenti e problemi di tutti i tipi e varietà. Non tutti gli utenti segnaleranno un problema una volta trovato. In più non è sempre necessario occuparsene con l'intervento umano. Quest'ultima frase non è che l'ho capita molto cosa volessi intendere. Sono anche interessato all'altro più personale del tuo lavoro. Come ti senti quando lavori a UFL? Ti senti caricato di un'enorme responsabilità? Ci sono cose all'interno del gioco che emergono di più e di cui sei orgoglioso? Mi sembra che gli utenti non consigliano spesso i sentimenti degli sviluppatori quando si parla di questa industria. Come ho detto prima c'è la facciata di un progetto e poi il retro. Immagino ci si possa sentire rispeggio dal fatto che gli utenti non vedono esattamente ciò che facciamo. Ma abbiamo un grande team di back-end e facciamo molte cose fantastiche. Devo dire che a volte è frustrante riuscire a creare degli approcci unici. Delle soluzioni a sfide ambiziosi. Ma che niente di tutto ciò sarà visibile all'utente. Non pensano pure a ciò che facciamo quando tutto funziona correttamente. Fino a quando qualcosa va storto e si rompe. Solo allora pensa a noi, eh caro mio. Dall'altro lato l'ananimato può essere positivo. Lo scopo è quello di far divertire i giocatori, punto. Niente di più. Quando ci sono problemi sono coperti al nostro team. Per quel che mi riguarda assolutamente. Essere coinvolto in un progetto AAA, un listo di citazioni e nervi allo stesso tempo. Con ogni nuovo compito e funzione che aggiungiamo, ogni singola volta, se implementiamo una nuova funzionalità, aggiungiamo alcune opzioni o limiamo qualcosa di vecchio per renderlo perfetto. Ogni singola volta penso a come verrà giudicato e utilizzato un grande numero di persone. E nonostante il back-end non sia visibile come altre parti del gioco, richiede comunque molto lavoro. Sì, c'è sicuramente il peso della responsabilità, è normale che sia così. Ma dalla mia prospettiva non pesa costantemente su di noi. Principalmente perché cerchiamo di distrarci da esso così da non esserne influenzati mentre lavoriamo. Ci concentriamo su realizzare buone funzioni di ottima qualità. Con l'obiettivo di migliorare il gioco meglio che possiamo. Ciò di cui stai parlando suggerisce che ci sarà un enorme peso sui vostri servizi online. Non sarà complicato come vi recuperate di questo aspetto? Ah sì, certo, è un problema complicato. Credimi, stiamo facendo di tutto per prepararci. Non puoi ignorarlo. Quindi facciamo molti test, stressiamo il nostro sistema con un carico che ci aspettiamo realisticamente di avere. Portiamo avanti anche dei test con carichi molto pesanti. Il test di carico è una delle procedure standard. Si fa per controllare come si comportano i nostri sistemi con il carico atteso in base al numero di giocatori. Che ci vediamo di vedere quando UFL sarà disponibile. Un'altra procedura è quella del testing sotto stress. Qui cerchiamo deliberatamente di sovraccaricare il sistema. Anche questa è una procedura standard e ci sono molti modi di svolgerla e ottenere i risultati desiderati. Abbiamo scelto una risoluzione esistente e l'abbiamo migliorata modificando le seconde esigenze e creando un autobot. Trasformatevi. Un bot che si occupa di simulare il comportamento degli utenti, ovviamente. Possiamo predire con insicurezza come gli utenti ad esempio quali schermati utilizzeranno più spesso, quali azioni svolgeranno e così via. Abbiamo creato dei profili su come gli utenti generalmente reagiranno. Prendiamo quelle informazioni e riuniamo per creare ciò che chiamiamo un profilo di carico. Una volta creato lo diamo in pasto all'autobot per ulteriori analisi. Può replicare il comportamento previsto centinaia e migliaia di volte e ogni volta emulare grandi quantità di utenti. Certo, grazie a questo automatismo possiamo svolgere questo genere di test molto spesso, anche più volte a settimana. Ogni volta osserviamo attentamente ciò che succede. Se qualcosa va male lo sistemiamo. Continuiamo a farlo finché non siamo sicuri che tutto all'interno del nostro sistema sia perfetto. Fantastico. Quindi più che aspettare che un problema vi arriva, li simulate con carichi simili per scovarli. Esattamente, è proprio ciò che facciamo. Speriamo bene. In questo modo prepariamo delle pipeline su come dobbiamo comportarci. Se qualcosa va male dopo l'uscita, quando saremo live. Usando queste pipeline prestabilite saremo in grado di sistemare tutti i giocatori. Probabilmente non si accorgeranno di nulla. Ottimo. Grazie per il vostro tempo. Ho imparato molto oggi. Ovviamente non vedo l'ora di incontrarvi di nuovo. E preparerò nuove domande per voi quando il gioco sarà pronto per l'uscita. Risponderò con piacere a tutte le tue domande. Grazie. Ciao. Parliamo dei tuoi piani futuri team. Ma cosa c'è nella lista dei compiti del tuo team? Abbiamo ancora qualcosa da portare a termine. Ovviamente tutti sanno che il lavoro non si ferma all'uscita del gioco. Eh no. Ci saranno ancora moltissime sfide da affrontare. Come ho detto prima, al momento del matchmaking ha la nostra completa attenzione. Il sistema di matchmaking è da sempre una delle parti fondamentali del funzionamento del gioco. Adesso siamo concentrati nella solimentura e allo stesso tempo nell'aggiunta di qualche miglioramento. lavoriamo costantemente per migliorarlo, lavorando sui parametri degli utenti, il peso del matchmaking di cui parlavo prima. Poi stiamo andando in sicurezza dei dati e stiamo dedicando buona parte del tempo a predire e occuparci di un qualunque problema di carico dei server. Come ha detto Oleg, siamo in grado di condurre test di carico e sovraccarico e di caricamento dei modelli grazie ai nostri bot di test automatici. Come ci aspettavamo, incappiamo nei più strani problemi che sappiamo hanno bisogno di... E cioè accade in tutti questi sistemi. Per rispondere alle due domande, sono sicurezza, carico dei server e sistema di matchmaking. Si tratti di meccaniche già esistenti che hanno bisogno di rifiniture e miglioramenti. Tutto è già stato creato e deve essere solo portato a compimento. Non c'è niente da per cominciare da zero, è corretto? Fortunatamente sì. Per la maggior parte direi che abbiamo tutte le meccaniche del gioco pronte. Tuttavia continuiamo a migliorarli in accordo con le esigenze extra dei game designer. Insieme ai nostri esperimenti, test e conclusioni continuiamo a rifinirle fino alla perfezione. Ok, ora prima di finire una domanda semplice per voi che spero avrà una risposta semplice. Non pensate troppo alla risposta, ok? Cosa vi piace di più del vostro lavoro? Cosa direste che vi dà più soddisfazione? Lavorare con persone creative. Quando sviluppi un videogioco, in quel tipo di videogioco, è impossibile non essere una persona creativa. Impossibile per ciò che richiede il lavoro. Devi suscitare emozioni, creare un impatto e mantenere alta la motivazione nel team. Ecco la tua risposta. Personalmente direi che la cosa importante è essere circondate persone non solo creative, ma anche professionali che sanno ciò che stanno facendo. Se non si fosse obito, sono molto felice di lavorare con questo team e con i ragazzi del back-end. In altre parole, ciò che avete fatto qui è la prova per chi è là fuori, che pensa che tutti i lavori del back-end sia statico e prettamente tecnico, che non è affatto così. Fantastico, sì. Grazie mille. Grazie a te. È tutto. Clap, clap, clap. E qui lui continua a parlare. Si prende un caffè e ricominciano a parlare. Bim, bim, bim. Strikers Inc. E qui ci fermiamo, anzi no, arriviamo proprio alla fine e ci fosse qualche cameo finale. No, non c'è nessun cameo. Allora ragazzi, tante chiacchiere, tante cose simpatiche, eccetera. Quello che sappiamo di importante da questo filmato è che UFL avrà i server dedicati, ci hanno fatto vedere come funzioneranno. Sul matchmaking sono state dette le cose di base che dicono anche in Konami e dei sports. Vedremo un po' quello che succederà. Di certo la notizia che i server siano dedicati è sicuramente una buona notizia. Poi dopo tutto quanto dovrà essere un po', come dire, messo alla prova dal gioco quando sarà disponibile. Me lo chiedete in tanti. Quindi ragazzi, dal primo luglio al 31 dicembre può essere il giorno buono, perché Eugene Nashilov ha detto che UFL uscirà la seconda, metà del 2023. Dal primo luglio al 33 dicembre può essere sempre una giornata buona. Io dico, secondo me, tra la seconda metà di agosto e la prima metà di ottobre esce UFL. Più o meno, settembre è il mese più probabile, ma c'è l'appendice di ottobre e l'appendice di agosto. Sempre che Strikers non rinvii il gioco, ma speriamo proprio di no. Perché sarebbe ora, anche perché si parlava di test contro test, invece sembra che alla fine il gioco uscirà nella sua versione base, diciamo, inizialmente già pronta. Sempre che invece questi test alfa, beta e compagnia non vengano rilasciati in precedenza. Staremo a vedere ragazzi. Per il momento è tutto, un grazie ancora a Francesco per la segnalazione, fatemi sapere cosa ne pensate di questo nuovo UFL Journey arrivato alla quarta puntata. Ciao!